La misura della tassazione delle auto aziendali? Durante la mia esperienza di viceministro dell'economia nel governo Renzi, devo dire che il ministro Paduan un pochino ascoltava, e per fortuna Renzi ascoltava un po' di più il sottoscritto. Quindi, anche se non abbiamo fatto tutto perfettamente, vaccate così clamorose ce le siamo risparmiate. Lo ha detto Enrico Zanetti, ex viceministro dell'economia del governo Renzi, ai microfoni di 24 mattino su Radio 24. È una norma talmente strampalata che, secondo me, non arriverà in fondo al percorso. Però esiste, almeno sulla base di quello che al momento hanno scritto nelle bozze che il Consiglio dei Ministri ha approvato lo scorso 29 ottobre. In questo modo, un dipendente che guadagna tra i 28.000 e i 55.000 euro lordi all'anno, dovrebbe pagare nel 2020 circa 2.100 euro di tasse in più per un'auto aziendale, ha spiegato Zanetti.